L'emergenza è tutt'altro che passata. La Italpannelli di Ancarano nel Terramano, fabbrica di isolanti andata a fuoco ieri pomeriggio poco dopo le 14 durante l'orario di lavoro. Il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, già dalla serata di ieri ha revocato l'ordinanza di chiusura della strada nei pressi dell'opificio, sbloccando il traffico, ma c'è preoccupazione per la nube di denso fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, le cui conseguenze sono ancora tutte da verificare. Ieri, dopo un tavolo tecnico nel comune di Ancarano tra le prefetture di Teramo ed Ascoli Piceno e i sindaci dei comuni interessati, Ancarano, Sant'Egidio alla Vibrata e Controguerra per il versante Teramano, Spinetoli, Colli del Tronto e Castel di Lama per il territorio marchigiano, si è deciso di vietare l'uso di acqua di pozzo, ortaggi e verdure in attesa dell'esito delle analisi sui campionamenti prelevati che saranno effettuate da Arta, ASL e Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise. Il rischio è che la nube tossica sulla quale i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre cinque ore abbia contaminato acqua ed alimenti. Le cause dell'incendio che ha distrutto l'Aitalpannelli sono ancora tutte da verificare e per questo la procura di Teramo ha aperto un fascicolo di indagine per ora senza indagati. Al momento sembrerebbe confermata l'ipotesi di un incendio accidentale. Un vigile del fuoco del distaccamento di Nereto è rimasto intossicato durante le operazioni di spegnimento dell'incendio e con un trauma al cranico per la conseguente caduta a terra e ora ricoverato nell'ospedale di Ascoli Piceno dove i medici stanno valutando l'ipotesi di un trasferimento ad Ancona. Intanto le aziende limitrofe alla Italpannelli rimangono ferme anche oggi su invito dell'ASL in attesa dei risultati degli accertamenti.